Musica Amici di Futsal Funner appassionati del calcio a 5 giovanile, benvenuti a Colleferro dove il Prato Rinaldo ospita l'History Roma 3Z per una sfida della zona playoff. Ma una volta adesso il Prato Rinaldo, palla per Merlo, Merlo difende, il pallone molto bene, lo mette al centro per Mosti che arriva solo al centro dell'area e fa 1-0 Prato Rinaldo. Contrasto di Ciafrei che poi perde il pallone, trattiene l'avversario, attenzione che è già munito il numero 5, l'arbitro infatti lo indica, secondo giallo e rosso per Ciafrei. Ma ora l'History, il tiro dalla distanza, attenzione a Catapano, Catapano, 1-1 dell'History Roma 3Z che sfrutta la superiorità numerica, due volte Catapano alla seconda e gol. Ancora che è il movimento del compagno, il tiro, gran parata di Tantari. Riconquista il pallone, sono un 3 contro 1, Catapano col piattone, fa 2-1. L'History Roma 3Z ribalta il risultato, ancora una volta il numero 6, migliore in campo. Forte carica il destro, trova una deviazione e anche il gol del 2-2. I padroni di casa tornano in parità, ci pensa Lorenzo Forte. Buona questa trama offensiva, palla sulla destra, il tiro e il palo colpito da Mosti. Attenzione la porta è sguarnita, il tiro da distanza salva Catapano. Conquista bene il pallone in scivolata, adesso un tocco, l'arbitro dice che è tiro libero. Andrà Mosti, Mosti col destro, il tiro c'entra il palo, poi Ronzoni col tapin di piattone. Il Prato Rinaldo all'ultimo, fa 3-2, ci pensa Ronzoni. Il portiere di movimento e prova a mettere in mezzo il pallone, ma non c'è più tempo. I padroni di casa del Prato Rinaldo vincono 3-2 contro l'History Roma 3Z in una partita bellissima nel secondo tempo.